Ciao amiche, buongiorno! Oggi parliamo di colori e di tendenze moda e vedremo quali sono le 10 sfumature che anche secondo Pantone saranno presenti nel nostro guardaroba e che dovranno aiutarci a rivitalizzare, a dare una spinta al nostro look, alla nostra fantasia e al nostro divertimento. State in linea e seguitemi! Come vedete da questa palette indicata da Pantone, queste sono le sfumature che più facilmente troveremo nei prossimi assortimenti. Il colpo d'occhio è immediato, non vediamo tanti colori scuri come ci si aspetterebbe in inverno, ma tante declinazioni, le sfumature medie di colori classici come il blu, come il grigio, ma anche qualche punta di colore un po' insolito, acceso e anche così inaspettato per questa stagione. Ma è giusto così, lo spunto che ci dà la moda quest'anno, non solo da quest'anno, è di cominciare a usare e divertirci. Quindi vediamo come sfruttarli al meglio. Il Riverside Blu è un colore classico, molto visto, ma è una versione più chiara del blu tradizionale, segno di un evidente bisogno di leggerezza e tuttavia è un blu che si declina facilmente in look che vanno dal tempo libero all'ufficio. La sua versione più luminosa e anche gioiosa è l'airy blue, è una versione di azzurro pastello leggermente stemperato con i grigi e questo chiede molto in termini di attenzione, leggerezza e luminosità perché tutte vogliamo sentirci un pochino più leggere anche nel nostro abbigliamento invernale. E quindi spazio anche gli abbinamenti di questo airy blue con i neri, con i grigi e con altri colori che abbiamo nell'armadio per creare delle combinazioni davvero insolite. Poi per chi ama invece il grigio, anche qui la proposta del grigio non è nelle sfumature più coupe ma è una sfumatura media, lo shark skin, che si adatta benissimo ad essere indossata anche con un total look. e molte di noi amano il grigio messo dalla testa ai piedi durante l'inverno però attenzione, facciamo sì che questo grigio non ci ingrigisca per cui ricordiamoci sempre di controllare se la sfumatura è giusta per il viso e soprattutto cercare di darci una mano con un make up leggero ma che abbia un pochettino di colore e attutisca gli effetti che rischia di dare un grigio un po' pallido. Abbiamo visto il grigio, abbiamo visto adesso, vediamo insieme il rosso è una punta di colore che non può mancare nelle palette invernali perché dà veramente quel tocco di energia, di presenza e anche di forza e nel nostro look può essere declinato anche in piccoli tocchi ricordandoci che comunque la versione giusta del rosso dovrà essere coerente con l'incarnato per cui per chi ha caratteristiche più ambrate andrà bene un rosso geranio e anche questa sfumatura di bold red chi ha invece la pelle olivastra magari preferirà delle sfumature di rosso che virano verso il blu quindi dei rosso ciliegia per esempio mentre warm top è veramente il trionfo della raffinatezza ed è un colore molto elegante anche più facile da indossare però facilmente potrebbe far apparire il look troppo informale per cui per renderlo veramente raffinato dobbiamo ricorrere anche a un accostamento di buoni tessuti ha delle texture, ad accessoriarlo un pochino anche con di buoni, una bella borsa, un bello sciarpa in modo tale che il look sia comunque informale o cittadino ma abbia una sua anima abbiamo infine per questo primo blocco il Dusty Seder che è una versione più fresca e contemporanea delle gambe dei marroni quindi per chi ama i marroni questo è una buona occasione per sperimentare un Dusty Seder che è un colore comunque rassicurante, avvolgente ma più fresco e nuovo è un Lush Middles che è un verde davvero deciso, vibrante molto energetico e coraggioso quindi via libera all'esperimentazione e agli abbinamenti anche con i neutri del guardaroba così come il Spicy Mustard che è una versione più fresca e più frizzante anche del tipico senape che siamo abituati a vedere durante la stagione autunnale e che anche questo parla di una donna che ha voglia di sperimentare e di divertirsi anche in piccoli tocchi la sfumatura del Potters Clay fa contente tutte le amiche che amano i colori più legati alla terra più informali, più country e sicuramente per renderlo indossabile con stile in città è meglio declinarlo in tessuti più compatti o con capi dalle linee definite il punto di colore veramente inaspettato insolito anche seducente ed audace è questo Bodecius quindi una sfumatura di lilla che ha una sua componente anche un po' civettuola ma che piace molto e che soprattutto vedremo abbinata da un punto di vista cromatico in modi abbastanza insoliti ma anche presente sugli scaffali in accessori quindi potremmo anche usare una borsa color lilla Bodecius con un total look totalmente grigio quindi io spero tantissimo che questo vi sia servito io sono qui per voi per seguirvi per le vostre consulenze stilistiche cromatiche di wardrobe planning scrivetemi e alla prossima e al prossimo video ciao a tutte